Il leader storico dei Notav della Valsusa, Alberto Perino, 70 anni, è stato condannato oggi dal Tribunale di Torino a nove mesi di reclusione per resistenza e lesioni e danni di un maresciallo dei carabinieri. L'episodio risale al 20 gennaio 2010, quando durante una mobilitazione Notav nei pressi della stazione di Condove ci fu un parapiglia con le forze dell'Ordine.